Il decreto semplificazione pubblicato oggi in Gazzetta ha recepito quel pacchetto di norme in cui sono compresi anche i poteri speciali al commissario per le situazioni più complesse che permetteranno di accelerare ulteriormente la ricostruzione post terremoto. Lo ha detto oggi il commissario straordinario Giovanni Legnini nel corso della sua visita a Ussita nel cratere sismico marchigiano. Nel decreto, ha spiegato Legnini, sono contenute anche numerose innovazioni sia sul piano urbanistico che dei lavori pubblici valide per tutto il territorio nazionale ma che torneranno utili anche alla ricostruzione. Anche in virtù, ha aggiunto, di quella norma di raccordo che è stata inclusa nel decreto e che consente alle gestioni commissariali di avvalersi di procedure semplificate. Adesso, ha detto ancora Legnini, attendiamo che l'altro pacchetto di norme relativo alla stabilizzazione del personale, allo sviluppo economico dei territori, al raccordo tra i vari sisma ecobonus e contributo di ricostruzione e il prolungamento dello stato di emergenza dopo il 31 dicembre 2020, venga inserito dal governo nel prossimo decreto legge. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Teramo e presidente del Lancia Abruzzo, Gianguido D'Alberto, poiché il decreto semplificazione accoglie le richieste dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Un risultato, spiega D'Alberto, dovuto alla determinazione dei sindaci dei comuni del sisma 2016 che da anni chiedevano strumenti efficaci e concreti. Circa la governance, il decreto accoglie le principali stanze, quali l'assegnazione al commissario di alcune prerogative per la semplificazione e l'individuazione di interventi ed opere pubbliche urgenti e di particolare criticità. Tra le novità, la ridefinizione delle soglie previste dal Codice degli Appalti per le procedure negoziate e una nuova definizione di ristrutturazione edilizia in tema di edilizia privata. Restano ancora da definire, conclude D'Alberto, nell'ambito del prossimo decreto sullo scostamento di bilancio, tutte le misure che comportano invece un impegno economico. Misure che dovranno trovare adeguata copertura in funzione delle esigenze relative alla dotazione di personale, della proroga dello stato di emergenza e del sostegno economico a famiglie ed imprese.